Una nuova, rivoluzionaria piattaforma online che potrà dare un aiuto concreto alle società di pallavolo. E' questo l'obiettivo finale di Samsung Fair Play, un progetto supportato da Lega Pallavolo Serie A femminile e FIPAV che coinvolgerà non soltanto tutte le società italiane e le loro atlete, ma anche le loro famiglie e i semplici appassionati di pallavolo. Accedendo alla piattaforma, gli utenti potranno acquisire dei punti chiamati volleys, semplicemente completando alcune missioni social o tramite l'acquisto di prodotti Samsung. Questi punti potranno essere devoluti dagli utenti alle associazioni sportive iscritte alla FIPAV che a loro volta li potranno trasformare in prodotti legati al mondo dei volley, dalle macchine spara-palloni alle divise da gioco, passando per palloni ed equipaggiamento tecnico. Da anni ci occupiamo di sostenere quelle che sono le passioni dei nostri consumatori e sicuramente fra questi c'è lo sport e sicuramente fra questi c'è la pallavolo e quest'anno allarghiamo ancora la nostra presenza, rimanendo ovviamente title sponsor del campionato femminile con tutte le attività che abbiamo fatto fino a quest'anno, ma allargando appunto questa nuova piattaforma digitale Fair Play che è dedicata al mondo della pallavolo e che permetterà a tutti i giocatori, a tutti gli appassionati, alle famiglie, a tutti quelli che hanno interesse verso la pallavolo di parlare di pallavolo, di condividere informazioni sulla pallavolo, di dialogare, di postare le proprie foto, di mettere dei like, di fare una serie di attività digitali. Avere come tale il tuo sponsor del campionato e degli eventi di Lega, la Samsung, è un impegno non di poco conto, è un marchio internazionalmente riconosciuto, di grande prestigio, di grande qualità. I numeri sono lì che testimoniano come ci sia questa crescita complessiva della pallavolo femminile in termini di seguito, sui social tanti numeri importanti e appunto con Samsung c'è questa attività che adesso parte, che va veramente incontro a quello che è poi la tipologia esatta dei nostri affezionati. Sono convinto che questo sarà un aiuto concreto e che dimostrerà anche la vicinanza non solo di una grande azienda, ma anche di chi pensa che tramite lo sport, in particolare della pallavolo, si possa cercare di costruire un futuro migliore per i nostri giovani.